Venite voi, sono i ragazzi già venuti, presto, vabbè, quando? Settimana prossima? Sì, lo organizzo io, lo organizzo lei, di Guerino, di Guerino, aspetta, capito, dai, ci andiamo! Di Guerino, aspetta, capito, dai, ci andiamo! Sì, mi lascia, scriverai, non lo abbiamo tutto, di Giacas! Fatti vedere, YouTube! No, 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 si vede loro? Si vede loro? Sì, mi sono scelto mille euro di divano, però... No, ma che fai... Di Giacas! Sì, che rompi cazzo! Guarda qua! No! Non è successo, non è successo, non è successo. Che barbetta bianca, che barbetta bianca! Che Giacas, sai che sono i Giacas? Quei pazzi che fanno... Guarda, guarda! Sì, guarda! No, guarda la... Che cazzo... Oh, questo qua avremo per quattro anni da vedere! Perché sono i tuoi? Questo è YouTube! Dai, dai! E le tante da soffizioni!